Grazie a tutti. 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 Poi abbiamo con noi eccezionalmente questa sera perché c'è qualcuno che ha, come si dice dalle nostre parti, un pochino faiato, cioè praticamente sta a cena fuori, quindi non può stare con noi per impegni presi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, la cosa bello. Grazie a tutti. 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 quasi impedendomi di riprendere il canto. Poi debutta come Norma nell'86 e riprende ancora il Pirata, canta il Pogliuto a Montpellier e ammette, dice, io ammetto di avere un amore particolare per Vincenzo Bellini e da sempre ho avuto il talento di riuscire a esprimere al massimo il suo messaggio musicale e il suo cavallo di battaglia chiaramente è la Norma che lei canta splendidamente, l'ha eseguita nei più grandi teatri del mondo e ho inaugurato l'Arena di Verona nel 94, ha eseguito centinaia di recite e è il ruolo che proprio sente all'interno di sé non solo vocalmente ma anche psicologicamente per la forza e l'umanità di questa figura, per questo suo senso materno, per la sua capacità di perdono e poi ecco poi dopo arriva la scala. La scala arriva nel 1986 con la cantata di Dione di dottorino Respighi e Benedetto Marcello, poi ci sono le nozze di Figaro dirette da Riccardo Muti con la regia di Giorgio Streller, c'è il re quindi Verdi, il Nabucco e dove canta da mezzo soprano e non da soprano interpretando il ruolo di Fenena e poi c'è il debutto al teatro dell'Opera di Roma nel 91 con Don Giovanni, a Strasburgo con la Semiramide e poi Boen, Don Carlo. Nel 1997 debutta il ruolo di Abigaille nel Nabucco di Verdi e nel 98 inaugura sempre con il Nabucco il teatro Verdi di Salerno e nello stesso teatro Verdi di Salerno debutta il ruolo di Lucia appunto nella Lucia di Lammermoor di Donizetti. Nel 99 è turandotte a Livorno e prende parte al teatro pergolesi di Iesi alla prima esecuzione moderna dell'opera Ines de Castro di Giuseppe Persiani. nel ruolo titolo che è l'ideale proprio per la sua per la sua vocalità verrà poi acclamata anche in tanti ruoli quindi ci chiamo solo qualcuno abbiamo Aida all'Arena di Verona poi abbiamo i debuti a Tokyo di Gioconde di Turandotte, ancora Norma, Catania, Tosca, Toronto, il Macbeth, la Turandotte nel 2002 al festival Pucciniano di Torre del Lago e nel 2013 per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi il debutto in Traviata. quindi cosa siccome si può concludere che questa grandissima artista ha cantato nei principali teatri del mondo ha collaborato con i maggiori direttori d'orchestra nominiamo alcuni Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini, Lorin Mazel, Zubin Meta e vorrei concludere con una frase della signora che ho trovato e che mi è piaciuta molto anche perché io sono stata un'insegnante e la signora la dedica ai suoi studenti quindi la cosa mi è piaciuta particolarmente le dice insegno sempre i miei studenti non badate allo star system quello che rimane nel tempo è ciò che avete costruito con pazienza e devozione e con storia diceva Verdi cita la signora è moderno tornare all'antico io sono soddisfatta e convinta di tutto quello che ho fatto e non ho mai voluto assoggettarmi appunto allo star system perché se lo si fa si rischia di essere manipolati quindi io la trovo una frase bellissima che ci dà il senso non solo della grande artista ma anche della grande donna della umanità e del senso di coscienza di una grande persona grazie mille di questa bellissima descrizione grazie a lei la nostra professoressa come diciamo io e Valerio non ci delude mai quindi ha lavorato è vero Valerio è bello queste parole che ha pensato il fatto che io ci tengo soprattutto alla spiritualità dell'arte che canta tre volte ma non è tanto per dire è proprio un fatto che la musica dovrebbe aiutare a migliorare l'animo a comunicare qualcosa di miracoloso quindi questo è il mio messaggio di poter comunicare ai giovani l'importanza dell'umanità della spiritualità per la quale si eviterebbero pure tante guerre tante cose cattive se l'uomo si nobilita io sono sicuro che è una missione quella del musicista quindi l'ho preso d'accordissimo su questo chiaramente ha sentito in tutta la diciamo l'intervento di Luisella quindi ha ripercorso molto anche approfonditamente le tappe della sua carriera però adesso abbiamo lei quindi dobbiamo così fare un percorso insieme a lei per toccare le cose che nella sua carriera sono state quelle fondamentali ecco da cosa vogliamo cominciare Maria? proprio da una cosa che è proprio quasi provvidenziale io subito dopo la vittoria al concorso Callas fui richiesta per il Re quindi Verdi è la prima cosa che ho fatto al Carlo Felice di Genova e questo capolavoro che è sempre così moderno ancora ora proprio manifesta tutto il dolore dell'uomo dell'umanità e secondo me è stato fondamentale nella mia carriera me l'hanno sempre chiesto questo lavoro e a me piace tantissimo devo dire quindi ho cominciato diciamo bene perché ho cominciato con una cosa spirituale come piace a me questo voglio dire poi ho continuato ovviamente con le opere e io ho una predilezione per Verdi ma soprattutto per Bellini perché è il malinconico io sono anche una persona un po' malinconica per natura fin da bambina sono sempre stata tant'è vero che mamma mi tolse dalla scuola perché la prima maestra si chiamava ironia della sorte Maria Di Stefano incredibile e allora diceva questa bambina è malinconica è malinconica la mamma mi ha tolto dalla scuola siccome era anche una maestra e mi ha fatto studiare con lei perché dice timide è malinconica è una introversa ecco e quindi secondo me in Bellini mi ci rivedo perché è come se fosse un cigno lunare diciamo una dimensione molto particolare assolutamente sì però abbiamo toccato il requime lo vogliamo ascoltare un pezzetto? facciamo questo regalo ai nostri radioascoltatori ascoltiamo assolutamente vero Valerio ascoltiamo il requime eterna dal requime di Giuseppe Verdi e poi Valerio quando rientriamo è tutta tua va bene? grazie 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 andiamo grazie a tutti 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 profondamente e autenticamente sentito e penso che sia uno dei più grandi pregi al di là dell'accento giusto, della voce importante, dell'agilità ben fatta, dell'appunto ben preso. È proprio questo approccio profondo, autentico e di questo ne siamo tutti gratissimi. In una stagione come l'attuale in cui questo elemento vero, sorgiva, autentico, tante volte viene messo in secondo piano. Invece con Maria era sempre evidentissimo e di questo veramente di cuore la ringrazio. Ma grazie a lei che mi dice queste belle parole. Io sono molto contenta perché è proprio questo il mio intento di comunicare una profondità, un amore, un'umanità che scaturisce da questo tipo di musica dove è inutile fare la diva, è Verdi che parla. E ancora oggi il dolore che si sente in questo rego è tangibile, in questo momento tremendo di guerre, non è mai stato sempre così moderno. Perciò dico è importante servire così gli autori, i compositori. Questo è il mio... Ma sì, ma questo veramente si sentiva. E questa è diciamo la parte emotiva importante. Dall'altra parte, e questo lo dico soprattutto a lei ma anche ai nostri ascoltatori, la sua qualità e l'importanza per così dire storica della sua voce. Sicuramente un contatto con Maria Callas è evidente, è forte, è riscontrabile nella vastità del repertorio. Per certi versi il fatto di avere vinto il concorso Callas con due pagine tipicamente callassiane quali sono quelle di Norma e del Pirata e sono assolutamente un suggello. Il fatto di avere fatto poi altre opere tipicamente Callas come può essere Norma e Sonnambula in contemporanea o ancora avere fatto Gioconda, avere avuto questo repertorio che sapeva alternare Turandot, Sonnambula, a Gioconda e poi ancora Norma. In questo sicuramente c'è. Ma quello che a me pregna anche evidenziare è un tratto caratteristico della voce di Maria Dragoni che è anche l'italianità, che secondo me è qualcosa che va ugualmente evidenziato. La grandezza che ha di Maria Dragoni è quello di avere assorbito la lezione fondamentale della Callas ma di averla autenticamente fatta sua riscoprendo quella linea malinconica che secondo me Berlini ha acquisito proprio nella città di Napoli. Quindi ho sempre visto questa continuità tra la formazione dell'antichissima e gloriosa scuola fettecentesca napoletana che hai rivissuta in un clima di rielaborazione musicale belliniana e riportata con questa vivacità sorgiva, malinconica, dolente ma viva napoletana di Maria Dragoni. Quindi penso che la continuità che ci può essere tra la sua sonnambola e la sua norma e ancora il suo pirata dolente, lirico, disperato e ancora vitale è veramente che qualcosa di unico e soltanto suo. E veramente è stata una cantante eccezionale e lo dico davvero con onestà. Grazie veramente, sono confortata perché ho dato tutta la vita a questo lavoro e mi fa piacere di essere ricordata perché alle volte uno dice poi magari quello che ho fatto a fare se a nessuno interessa invece è bello vedere che qualcuno l'apprezza, qualcuno di persone colte. Io aggiungerei, purtroppo per deformazione professionale, vado anche a rilevare che con un colore meraviglioso con una pastosità, con una veramente, nel gergo si è grana, di grande pregio è legata a un'emissione perfetta, a una tecnica veramente puntuale che non ha sbavature. Questa è una delle cose più tecniche forse ma che unite alla caratura dell'artista, a quello che diceva adesso anche Valerio, quindi al modo di vivere il teatro penso che sia l'unione di due fattori importantissimi che poi fanno il grande artista. credo che sia una cosa che va detta perché non si ritrova molto spesso un'unione di questi due fattori. Poi è una cosa che è la salvezza per la lirica, questa di cantare con morbidezza, mezza voce, come uno strumento. quello che insegna l'antica scuola Gazzia e l'antica scuola napoletana, tutti urlano. Invece è importante l'emissione di un oboe, io imitavo l'oboe, il suono dell'oboe, perché tu sei uno degli strumenti in orchestra, non devi sforare, devi essere come gli altri strumenti, solo con le parole, credo. Questa è l'umiltà del grande artista, parliamoci chiaro, è sentirsi strumento del tutto, perché oggi, come diceva anche Maria Teresa, assistiamo molto spesso, io ultimamente cerco di non citare le cose perché è chiaro non è il caso, ma si sta assistendo a delle rappresentazioni in teatro che tutto sono meno che rappresentazioni, sono delle, diciamo, delle, cioè uno deve ringraziare il cielo se il personaggio va a fondo e riesce a, diciamo, a gestire l'opera in maniera decorosa, ma è molto raro, è molto raro anche in grandi teatri, non dico dove siamo stati meno di una settimana fa, ma credo che non più tardi di 15-20 anni fa uno spettacolo del genere anche nella più becero provincia, e stavamo in uno dei più grandi teatri che abbiamo in Italia, quindi non voglio dire il maggiore, ma uno dei più grandi. Detto ciò, però, siccome abbiamo anche in chat una sua fan che sta scrivendo Paola, non dico il cognome per privacy, che la saluta tanto e veramente le sta facendo un ritratto eccezionale, ma soprattutto lei è una grande amante di Bellini, andiamo a parlare di Bellini, anche perché abbiamo un brano molto importante da ascoltare dopo, signora Maria. Dica, lei è Bellini? Ma è nato un amore proprio viscerale con Bellini, perché come ho cominciato a cantarlo, sentivo proprio che entrava nelle mie corde emotive, e ho provato un'emozione incredibile a cantare il Pirata, la Norma, la stessa Sonnambula, i Puritani, tutto, e non lo so che c'è, ha una qualcosa di veramente elegiaco, e io lo paragono alla statua del Canova, perché la statua è potente ma pura, ha una forma, diciamo, classica, e questa cosa è bella perché è l'aulico, no? È una forma che si eleva, il sublime e tragico con Bellini abbiamo. E quindi io sono molto, molto amante di Verdi, ma proprio mi sento proprio dentro Bellini, come una parente, mi sento nel cuore di Bellini, lo amo. E io adesso, se è d'accordo, manderei la Sonnambula, non giunge, uman pensiero, e poi lascerei la parola a Luisella, che poi dirà la sua anche su questo bellissimo brano che andiamo ad ascoltare. No! 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 Grazie a tutti. 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 Non potrebbe essere altrimenti. E dopo questa sonnambola mi chiamavano Maradona. Bellissima questa sonnambola. È bello, no? Dicono il coro, io sono molto il coro. Certo, in effetti è una cosa molto bella. Luisella, vai. Il pubblico non smetteva di applaudire, non la lasciava continuare. Perché quello che, perlomeno io ho percepito è stato questo candore lunare che la signora prima attribuiva al Cigno Bellini. Questo incanto, questo incanto, è veramente l'anima dell'artista che passa direttamente nella musica. Anche io amo moltissimo bellini. E oggi, in attesa di questa trasmissione, sono andata ad ascoltarmi un brano di Norma che io amo particolarmente, che è in mia mano al film tu sei. E c'è veramente, a mio parere, una sintonia unica fra la voce, il canto, l'arte di Maria Dragoni e il grande artista, il grande Cigno di Catania che l'ha ispirata. Bellissimo, Bellini, proprio si sente, anche lui poi è molto giovane, aveva questa artistica giovanissima, e si sente tanta passione e tanta malinconia, sofferenza che però è sublimata in una catarsi gloriosa. Sì. Assolutamente, in una semplicità di linea disarmante. E vorrei solo aggiungere una cosa, come ho detto, oggi sono andata ad ascoltarmi Norma, io amo molto Norma, nell'interpretazione della signora Maria Dragoni, e questa sera abbiamo sentito a Mina due ruoli diversi, ma veramente l'essenza della figura femminile belliniana in entrambi, colta e intuita perfettamente e resa in entrambi i due ruoli. Assolutamente sì. Ora andiamo avanti Maria, se io dico Gioconda. Ho cantato una sola volta, perché mi volle la grande ghina di Mitrova. Lei sarà proprio innamorata della mia voce. Noi cantammo insieme proprio Bellini, io cantavo ad Algisa. E lei disse, io voglio Maria Dragone perché quando c'è lei mi sento meglio, mi ispira questa cantante. E voglio che eredita questo repertorio perché lei è una voce che io amo. Quindi mi portò a Tokyo con sé per debuttare Gioconda dopo di lei. Le cantava la prima e ora la seconda. E fu una bella cosa, perché poi non l'ho cantata mai più, però un bel ricordo. E' un vero peccato perché adesso noi ascoltiamo Suicidio e devo dire che se l'avesse fatta più volte penso che avremmo avuto veramente... Ma sapete che per me è un regalo perché io ho la Gioconda delle mie opere favorite qui. E' il cuore di Valerio Gioconda. Ormai risaputa che la Gioconda era delle mie opere favorite. Hai visto che abbiamo fatto un regalo? Grazie. Andiamo, ascoltiamo Suicidio, dalla Gioconda di Ponchielli. In questi fieri momenti Ormai rispondiamo Suicidio, dalla Gioconda di Ponchielli. Ormai rispondiamo Suicidio, dalla Gioconda di Ponchielli. Ormai rispondiamo Suicidio, dalla Gioconda di Ponchielli, dalla Gioconda di Ponchielli. Ormai rispondiamo Suicidio, dalla Gioconda di Ponchielli, dalla Gioconda di Ponchielli. Grazie a tutti. 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 dolcissima, quasi fragile verrebbe da dire, ventissima donna profondamente temperamentosa e questo è qualcosa di straordinario legato al canto di Maria Dragoni. Grazie a tutti. 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 Ormai a tutti. Ormai l'ho presa e non la lascio. Quindi io intanto ringrazio ovviamente Maria Dragoni per la cordialità e per la gentilezza che ha avuto di stare con noi. Luisella Franchini che ha debuttato in maniera eccelsa questa sera. Grazie a tutti voi e in particolare alla signora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io farò domande la prossima volta sull'aspetto tecnico mi interessa come pianista accompagnatrice di cantanti e quindi ne sento tanti. Ecco. Tanti e tante. Lasciamo perdere. E quindi faremo due chiacchiere le prossime volte signora. È stato per me un grande piacere e un grande onore. Salutiamo Alvin Valerio che qui bisogna ricordarsi che tu sei Alvin. Allora grazie. Valerio ci sei? Ho fuggito? No. Valerio? Valerio? Scusate Valerio non ci sono. No ti stavamo salutando ti salutiamo Alvin. No no ma io aspettavo che mi chiamassi scusami. Allora guarda veramente un grazie di cuore a Maria. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Delle due nostre nuove figure. Luisa e Teresa. Grazie di essere qua accanto a noi e veramente a prestissimo e buona serata al nostro pubblico. Bene allora andiamo ad ascoltare l'area finale. Buonasera. Un grande abbraccio a Maria Dragoni la ringraziamo ancora ma ribadisco ci vediamo a novembre. Allora adesso mandiamo l'area finale del terzo atto di Ines De Castro dell'opera Ines De Castro. Ascoltiamola. Ascoltiamola. Un grande abbraccio a lui diciamo. Ascoltiamola. Lascoltiamola. E' un fratello vero Io non moro Ma non c'erò E' un fratello vero Io non moro Io non moro Io non c'erò Io non moro Io non moro Io non c'erò E' un fratello vero Io non moro Io non moro Io non c'erò Il mio figlio a ritrovare Io non terrò Sous-titrage ST' 501 Verso qui, verso qui, sul petto mio, questo è questo, questo Dio, senti sempre un po' più in storia, se ti calca i miei dormiti, lascia in terra, lascia in terra, lascia in terra, lascia in terra, e un frate il mio, io non moro, la pace è la, io non moro, io non moro, vado in cielo, io non moro, vado in cielo, e i miei figli ritrovo, io non moro, vado in cielo, vado in cielo, vado in cielo, i miei figli ritrovo, io non moro, vado in cielo, i miei figli ritrovo, io non moro, i miei figli ritrovo, Uuuuuupico E alla esfera invita io re zone la sombra e la sombra Grazie a tutti. A Maria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Lisella Franchini, Valerio Lopane, Paolo Pellegrini e Massimiliano Samsa. A Maria Radio, la radio che non c'era.